Metti un punto esclamativo sulla qualità della tua vita. Vieni a scoprire gli appartamenti e le billette che Aurora propone a Reda, a pochi minuti da Faenza Centro. Reda è un borgo privilegiato, a misura di famiglia, con scuole, asili, servizi, negozi, centri ricreativi e sportivi. Il luogo ideale dove vivere. Hai mai visto Reda? www.aurorafaenza.it